Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con le notizie sull'esodo estivo, anche quest'oggi, 2 agosto, è giornata da bollino rosso in particolare per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare. Traffico intenso previsto anche in serata nei centri urbani per i rientri del fine settimana. Segnaliamo che comunque al momento in Toscana il traffico scorre regolare. Ultima pagina per il traffico ferroviario e per i treni ad alta velocità, resta confermato il distanziamento e il limite del 50% dei posti da occupare a scacchiera. Per la giornata di oggi sono previste numerose cancellazioni e possibili disagi nelle stazioni. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Chirenze e Comune di Chirenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!